cari amici del caffè biblico buongiorno voglio parlarvi stamattina dell'app immuni che cos'è questa immuni è un programma un'applicazione che scaricato sul nostro smartphone ci consente di viaggiare muoverci in tutta sicurezza perché perché nel momento in cui dovessimo trovarci vicino a qualcuno che ha avuto problemi con il coronavirus il nostro dispositivo ci avvisa comincia a suonare a vibrare e quindi noi ci possiamo allontanare da questa situazione ovviamente come sempre questa cosa ha suscitato tante polemiche c'è chi dice che questa app una volta scaricata nel nostro smartphone serve unicamente a controllare il nostro modo di vivere i nostri spostamenti e quindi una limitazione della nostra privacy altri non riescono proprio a scaricarlo perché il loro dispositivo è obsoleto e quindi dovrebbero acquistarne uno nuovo in grado di supportare questa applicazione insomma come sempre tante tante polemiche ma io questa mattina non voglio polemizzare voglio solo prendere spunto dalla parola immuni immuni che vuol dire immuni immunità significa una garanzia un privilegio di esenzione per esempio nel nostro paese ci sono le immunità parlamentari ci sono delle immunità internazionali ci sono delle immunità diplomatiche per cui le persone hanno dei privilegi che altri non hanno perché sono appunto immuni riguardo alcune regole alcune leggi in medicina l'immunità e la resistenza dell'organismo all'azione di determinati germi patogeni o determinate tossine essere immuni quindi è un privilegio essere immuni significa che noi non siamo soggetti a qualcosa di pericoloso bene questa mattina voglio parlarvi dell'immunità più straordinaria che ci sia e io ti consiglio di scaricare questa applicazione o meglio di applicare questa immunità alla tua vita perché tu puoi farlo proprio questa mattina e questa immunità deriva dalle parole di gesù 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 nel vangelo di giovanni al capitolo 11 versi 25 e 26 disse così io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive crede in me non morirà mai credito questo gesù sta parlando dell'immunità contro la morte e dice che lui è colui che che rende immuni dalla morte io sono la risurrezione e la vita in che maniera noi possiamo scaricare questa applicazione proposta da gesù e renderla efficace attiva nella nostra vita credendo in lui chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai quindi la fede ci permette di appropriarci di questa immunità cari amici che ci seguite se non l'avete ancora fatto questa mattina ho questa splendida notizia per voi potete scaricare gratuitamente nel vostro cuore l'applicazione immuni di Gesù questa immunità ti renderà libero dal peccato e dalla morte il giorno in cui lascerai questa terra tu entrerai nella vita perché Gesù ha detto io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e la vita eterna è il dono di dio per chiunque crede in lui questa mattina prendendo il nostro caffè vogliamo dire signore grazie che ci hai resi immuni alla morte eterna la morte spirituale morendo sulla croce per noi dio ci benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti